Reading Lolita in Teheran, firmato da regista Aaron Rickliss, è il film vincitore del premio del pubblico FS assegnato alla festa del cinema di Roma. La pellicola, la più votata dagli spettatori tra 18 film in gara al concorso Progress in Cinema, è stata girata tra Israele e Italia. Protagonisti, una coppia di coniugi iraniani, lei professoressa di letteratura anglo-americana, lui ingegnere civile, che tornano a Teheran dopo la rivoluzione di Khomeini nel 1979. La storia è tratta dal best-seller di Hazar Nafisi e racconta la sua lotta per trasmettere bellezza e cultura agli studenti sempre più esposti all'indottrinamento islamico. Il gruppo FS italiane è anche quest'anno sponsor ufficiale dell'iniziativa, una partnership che conferma il ruolo di mobility leader di Ferrovie dello Stato italiane e il costante impegno del gruppo a favore dell'arte e della cultura in ogni sua forma. Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs e Communication Officer del gruppo FS. Il gruppo FS quest'anno ha sostenuto il Festival del Cinema come ha fatto anche nelle precedenti edizioni perché sostiene il mondo dell'arte, della cultura, promuove la libera circolazione delle idee oltre che delle persone. Lo abbiamo fatto quest'anno rilanciando il premio del pubblico perché è importante per noi che anche il pubblico abbia scelto il suo film. In paglio, per coloro che hanno espresso la propria preferenza all'interno del concorso organizzato da Fondazione Cinema per Roma, carte regalo per viaggiare a bordo dei treni del servizio ferroviario regionale e nazionale. Noi intanto all'interno dei treni promuoviamo anche la cultura cinematografica. Chi frequenta le nostre frecce all'interno può visionare gratuitamente film nuovissimi e quindi voglio dire noi lo promuoviamo all'interno anche dei nostri mezzi come promuoviamo la cultura in generale perché riteniamo che sia un eccellente strumento di comunicazione.